Bentornati a tutti in questo nuovo video, dato che ultimamente tra i vari commenti ci avete chiesto un po' di parlare, di spiegarvi, di raccontarvi un po' qualcosina e darvi un attimino un nostro feedback e una nostra opinione su quelle che sono differenti aziende di network o meno. La prima che andremo a trattare oggi è una dei colossi che si conoscono di più per quanto riguarda il mondo del network e poi successivamente col tempo vi porteremo sul canale tutte le altre vostre richieste per raccontarvi al meglio le varie aziende. Direi che possiamo iniziare. Ok, di quale azienda parliamo oggi? Oggi trattiamo Amway, che alla fine della fiera è uno dei colossi realmente del network. Perché dico questo termine? Perché effettivamente è un'azienda di multilevel marketing statunitense che è stata fondata nel 1959. Adesso non so se li pronuncerò bene, ma i fondatori sono Jay Van Andel e Rich DeVos, che sono due persone statunitensi, che pensate ormai da più di 60 anni di storia, ancora ad oggi rimane nel ranking 30 delle aziende migliori al mondo, ok? Per quanto riguarda la vendita diretta o networking, con un fatturato che si aggira a 9 miliardi di dollari, ok? C'è sempre da raccontare un po' poi quello che è la storia, perché le persone non sempre vedono bene il network e hanno cattiva influenza dalle persone che stanno attorno. Non tanto per l'azienda di per sé, ma come già abbiamo visto in differenti video, più che altro per proprio le persone che magari la fanno in malo modo o utilizzano strategie non troppo performanti o rompono le schiatole o le classiche cose che magari andiamo a vedere nel network. Qua sicuramente dal punto di vista aziendale dovete stare tranquilli, anche perché, ripeto sempre, come già visto in alcuni video, per stare tranquilli e ritrovare un'azienda seria di network marketing, bisogna far sì che rispetti determinate statistiche, determinate condizioni, ok? E caratteristiche l'azienda che andiamo a trattare. Quindi qua ritroviamo sicuramente un'azienda storica che ha dei fatturati importanti, che fa parte anche di un megatrend, perché alla fine della fiera, che lo si voglia o meno, anche andare a curare quello che è il nostro ambiente è importante, ok? Infatti nasce per quanto riguarda la cura della casa, con tutti i prodotti per pulire e compagna bella. Ad oggi, vedendo comunque il mercato, come si è sviluppato, ha all'interno della sua gamma dei prodotti anche tutti quelli legati alla bellezza riguardanti creme, ad esempio, e alla nutrizione, quindi integratori. Vi ho parlato di un discorso che va raccontato un attimino la storia, perché è questo? Perché nel 1975 andò sotto inchiesta perché venne accusata di essere un sistema piramidale. Ovviamente vinse la causa perché, come abbiamo visto, tutti quelli che sono schemi ponzi, piramidali, truffaldine, ok? Come aziende non rimangono sul mercato a lungo tempo, però in una maniera o nell'altra le aziende di network prima o poi vengono attaccati, soprattutto magari da stati che non comprendono realmente i metodi di guadagno. Però guarda caso, se hai un fatturato alto aziendale, vinci la causa perché hai modo anche di poter far vedere tutto quanto nella realtà di fatti che è tutto cristallino e tutto legale, ok? Quindi anche per questo che bisognerebbe sempre andare a prediligere un'azienda che ha già dei fatturati importanti e c'è da tanto tempo sul mercato, ok? Quindi queste sono un po' le caratteristiche base, ma andiamo a vedere un attimino, vi racconto un attimino, come funziona, ok? Perché vi starete chiedendo magari anche come si guadagnano, ok, questi soldi. Partiamo innanzitutto da un'iscrizione, quindi col classico pacchetto di entrata della licenza che troviamo in tutte le aziende di network marketing, dove ricordo sempre non si guadagna sull'inserimento delle persone. È una spesa volta all'azienda semplicemente per darvi quello che pagate, ok? Quindi non ci sono benefiti dal punto di vista di ingresso delle persone, ma dalla vostra iscrizione avete sin da subito un 20% su quello che è il prodotto acquistato, quindi una scontistica già per noi, e un guadagno nel caso lo si rimetta sul mercato. Nel caso in cui poi andiamo a strutturare la vera e propria attività di network, costruendo la nostra rete commerciale fatta di persone, andremo ad attingere anche a un bonus che va dal 3 al 21% di fatturato base mensile. Qua è messo sotto forma di punti, ok? Quindi se voi ad esempio fatturate dai 200 ai 10.000 punti, ok? Non sto parlando di euro, ma di punti che generano questi prodotti che o consumate o mettete sul mercato, avete un bonus aggiuntivo dal 3 al 21%. Qualora una persona nella vostra rete commerciale dovesse raggiungere il 21%, semplicemente si staccherà dal vostro fatturato classico e avrete un 4% aggiuntivo fisso sul fatturato che si andrà a generare, senza nulla a togliere il guadagno delle persone. Questa è un po' la possibilità e l'opportunità che c'è dietro Amway. Per quanto ci riguarda, sinceramente non l'abbiamo scelta per quanto non la consideravamo in linea con le nostre persone, per quanto si rispecchi dei megatrend, ma non è nata per quello. Quindi semplicemente per questo non è stata la nostra scelta, ma è comunque un'azienda super valida per iniziare la vostra attività di network marketing. Per qualsiasi informazione, domanda aggiuntiva o se volete iniziare a collaborare con il gruppo Digitals, vi lascio sempre in descrizione un link per prenotare la vostra consulenza privata e capire se potete fare al caso nostro. Al prossimo video!